La mia grande emozione è stata la sfilata di Pierpaolo a Piazza di Spagna, sulla scalinata. Per il semplice motivo che io da ragazza giovane e timida ho fatto la mia prima uscita col signor Valentino sulla scalinata. Ritrovarmi dopo tanto tempo una donna già attempata, con tanta esperienza, lavorativa, scendere la scalinata con Pierpaolo. Ragazzi, che vi devo dire? Se questa non è soddisfazione, giusto? Eh sì.